Ciao Piscano, non mi sono scordata, scusate, 1,2,3, via. Non è una vagina questa, no, la mia è più bella, è lunga, così, questo video ragazzi, è per fare gli auguri di Natale a tutti, questa è la cazza di Rabefania che non è la prima. No, Rabefania sei te, è il saputo che Rabefania non è un piatto, comunque voglio un fila sui racchi. E c'entra, non c'entra, lo so. Allora, in questo video volevo fare gli auguri di Natale a tutti, in particolar modo a tutte le scevole che ci hanno chiesto per tutti i tanti mesi, questi mesi ne torna insieme e bla bla bla. Soprattutto a mio marito, a mio marito, a suo marito, a me e a Marco, io nel frattempo ancora cerco marito, comunque nel mio video dove cerco marito, comunque visitati, spero il mio marito famoso. Soprattutto, comunque vorremmo fare gli auguri pure a Drizza, a questo video, a me e a Giacciaturi, a Massimo, a Massimo, a Massimo, a Massimo, a Massimo, a Massimo, a Massimo. Io mi auguro in particolare a Valentino Vitto, che è la regina incontrostata di tutto il mondo. Allora, a Cimone. Sì, quello. Quella lì. E a Donatella Versace. Io volevo fare gli auguri pure a Lopitti, a Germano Mosconi, a Padre Pio e anche a Benedetto Sedicesimo. Sì. Perché a Benedetto Sedicesimo? Perché? Perché a Benedetto Sedicesimo. Benedetto Sedicesimo, ragazzi. Ma è vero. È più progetto di noi. È più progetto di noi. È più progetto. È bello. Allora, chiariamole cose. Benedetto Sedicesimo in realtà si chiama Dorothy ed è la terza gemella Kessler. Sì. Ok. Attafutpa. Attafutpa. Vabbè. Comunque vogliamo fare gli auguri a tutti gli altri. E vogliamo fare gli auguri anche a Giorgio Corriano Patti Già. Giorgio Corriano ha fatto gli auguri all'inizio. All'inizio. C'è un'attività. E vogliamo fare gli auguri a tutti i colori. A Sabrina Trash. A Pepe Fetish. Sì. A Danio Pepe. Sì. Era un altro spazio. È vero? Era un altro modo che io. Ciao te so. E poi a Angelo Dito e Giure, che era una scopona. Smuovi, padone. Dritta, sterma. E poi, dai ancora, a Salvatore Puzzo, faccia parola. Salvatore Puzzo, a Salazziazzi, a Iara Campirazio, a tutta la loro famiglia che sicuramente sarà affranta dal colore. Che possessero il pace veramente. E intanto segnaliamo le pagine di quel disinteressato che si prende il gioco di loro. Anche le pagine gialle. Anche le pagine gialle. Sì. Ehm... Disinteressato su Facebook. Certo, disinteressato su Facebook. Mi raccomando, segnalatelo e fate chiudere quella pagina perché è veramente malvagio. Rimettiamo un attimo la musica, aspettate. Sì, rimettila da capo. Da capo. Da capo. Fatti, vabbè. E comunque, noi speriamo tanto che Gemmi Gemmi per Natale... Ci faccia un video. Un video con gli auguri. Vestito da Strapona Natalizia. Sì. Come sul solito, senza guilt magari. Ma io direi quella che fa, la cazza della porcana. Ah, poi io voglio fare gli auguri a Fabio Il Sardo. Fabio Il Sardo, no. A Massimo Il Sardo. A Massimo Il Sardo. Quell'altro frocione. Sì, però pure il fatto Il Sardo che era un buon mio. Che è un altro frocione? No. Ah, è vero. E... E poi a tutte le transi, tutte le verdure. A Marco le frutte e verdure. Io volevo fare gli auguri a tutto il vicinato. A Monia, a Tomevalle. Sì, a Monia Tomevalle e pure sì. A Antoni, alla zia Giacinta che mi abitava al Pieno Terra. A Fabio, a Stefania, Riccardo, Luca. Guarda, oggi mi vendo pure l'anima. Sì, pure a Piena Filomena. A Piena Filomena, le guinqui. No, le guinqui secondo me dovrebbero morire a Capodanno. Le guinqui speriamo che muoiano la notte di Natale. Sì, devono morire. Devono morire comunque... Devono morire di gioia. Con le mie, con la mia sapata. Sì, sì. E... Divorate da un guzzilla. Da un guzzilla? Quella la palla. Quella la palla. Il cappuccino stuprare. Il cappuccino stuprare. Il cappuccino stuprare. Sta calmo, che merda. Che cazzo dalle. Buon Natale. Buon Natale. Allora... Vi fai auguri per Natale pure lui. Sì. Sì. Guarda che decidi, che mescoli. È il generale Maximo. È il generale Maximo, che è il capellone. Ah... Sì. Il cappuccino che sto dimenticando tutto. A tutte le mie amiche di Lifetrav. Che continuo a pubblicizzare. Lifetrav.it.net. Non lo so. Vaffanculo. Però ve lo cercherete. Se voi mettete su Google Lifetrav. Te esce questo sito di travelle. Ripeto. Tutto quanto minucci. Raccamara. Raccamara. E quindi andate a cercare. Ci sta bella retta. Sì. E poi... E mo' faccio iscrivervi. Questa droga. Qua nel caro suonaccio. Va. In internet. Noi ci faccio i video. Sono i video su Facebook. Manuela Vala Santa. E Bernadette Pintura. Forse hanno già messo dato 6 minuti. Adesso ho fatto la panna. Non so. Non so. Non so. Vabbè. Non so niente. Basta. Non so niente. Non so niente a tutti questi. E... Io mi sono scordato al film. Vediamo se non volete del male. Se non è scordo. Se sapete che sto finirando. Ah, io devo fare gli audio ad brosi. Scusate. Che faccio? Per lenti io ad brosi. Sì. Ehm... Vabbè. Sì. Sì. Allora. Sì. Allora. Sì. Ci scussiamo con tutti quelli che siamo venuti. Sì. Sì. Scusiamo per l'attesa. Ci scussiamo con tutti quelli che siamo venuti. Sì. Sì. Allora. Sì. Allora. Sì. Allora. Allora. Di che? Di Caterina. Allora. 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 Se non so. Comunque. Ti vorremmo dire che. A Natale. No. Un cellulare. Uuu. Scriva il cellulare. E' assoluto. assolutamente mondo natalizio ragazzi buon natale